Prendo un po' il contropiede, caro comune, non ci sono soldi ma non mi interessa, mi date una mano anche nel lato pratico, tipo palco, quelle cose lì, ma se organizziamo da qualche parte una bella serata con le canzoni mitiche degli anni 60, un bel festival anni 60, visto che quando c'erano le canzoni degli anni 60 sentivo che cantavano, lì canti anche tu Ercole, ti prendi in parola, sei già iscritto. Allora io vengo a parlarvi assieme, qui davanti a tutti, perfetto, perché mi hanno chiesto ma c'è un altro concorso, i concorrenti stessi perché ci siamo divertiti, ovviamente vabbè la classifica è la classifica, però qua è una bella serata. E poi Camillo, prossimo anno ripetiamo. Perfetto, allora di comuni tu dici sarà presto un altro concorso. Grazie al comune. Prima di dire i tre vincitori noi vorremmo, adesso Lola chiama tutti i concorrenti per ricevere un piccolo ricordo della serata. Vorrei più che con me Tito, vieni su Tito, il grande Tito. Tito un caffè! Bravo Tito, complimenti. Logicamente, non chiamerà tre persone ma non sanno ancora delle tre chi è terza, seconda, prima. Diamo un ricordo della serata. Allora cercherò di chiamare in ordine sparso, adesso va a finire che le chiamo magari una o due volte o non chiamo una concorrente affatto. No, faccio leggerle in fila. Faccio leggerle in fila, ma no, assolutamente. Vabbè, cominciamo con Carla Visconti. Va, dove è la chiamata? Va, Carla! Così, così rimangono con noi. Queste persone che vengono a chiamare sono tutti quarti classificati, quindi siamo tutti ex equo. Poi chiamiamo Maria Motola. Ma voi ci devi chiamare. No, rimani qui. Restate tutte qui. State qui, state qui, così vi vedo. Ma lì, il palco tiene. Ah, vieni se facciamo scendere Roberto. Non c'è problema, vado anche lì a parlare. È un dettaglio. Max Zacchedu. Erika Cossu. Daiana Diliberti. Andrea Spallazzi. Sono freddi come pochi. Carolina Barbero. Michela Colavito. Gio Morano. Alessia Nicchetti. Ci siete tutti? Quanti ne mancano? Mancano i tre. Ne manca uno? Sapevo che facevo confusione. Ecco. Vedi che c'è? Eh, allora non ho fatto confusione. E con questa bella cronice accogliamo la terza. La terza. Allora, possiamo mantenerli qui o... Perfetto. Allora state qui con noi tutti quanti. Allora, al terzo posto... Vai Roberto. Lucia Boni. Con New York, New York. Brava Lucia. Grazie. Grazie.